In questo video ti spiego come modificare data e ora su un PC Windows. Con tasto destro del mouse, clicca su Data e ora. Clicca su Modifica data e ora. In genere troverai spuntato Imposta l'ora automaticamente e Imposta il fuso orario automaticamente. Se non è spuntato o se hai necessità di impostare manualmente data e ora, alla voce Imposta la data e l'ora manualmente, clicca su Modifica. Da qui puoi cambiare sia la data che l'orario. Una volta cambiato la data o l'orario, clicca su Modifica per confermare. Grazie per avermi seguito. Se ti è piaciuto, metti like al video e iscriviti al canale perché pubblico altri tutorial come questo. Se hai domande, falle nei commenti qui sotto oppure scrivimi a comeusare.tutorial.gmail.com Ciao e ci vediamo in un prossimo video!